Cari amici di Telebari, benvenuti ad una nuova puntata di Tempi Supplementari, il programma che riporta la radio in televisione e che riporta in televisione il fascino del calcio anni 90. Videotema! Senta, ma di calcio ci capisce più lei o Boniperti? Senta, lui ha giocato e per capire bene il calcio, il parere di quelli che hanno giocato, e capisco che certamente vale di più di quelli che non hanno giocato, quindi senza dubbio lui. Sì, però lei ha anche detto, quando Boniperti non segue i miei consigli fa delle sciocchezze. Ma questa è un'altra cosa, delle sciocchezze ne ha fatte come? Delle sciocchezze ne ha fatte come? Quali sono le ultime? Ma questo lo dicevo guardi per due ragioni. Una, perché voglio confortare, non so, i presidenti di altre squadre, Pontello e Viola, e fargli pensare che anche Boniperti fa delle sciocchezze. Qualcuna me la dice, l'ultima. Non è l'ultima, perché non voglio parlare di una storica. E ne dico una divertente e clamorosa. Siamo ai campionati del mondo di sei anni fa in Argentina. Io ricordo il telefono a Boniperti, gli dico, Boniperti, mi hanno segnalato un giovane che ha delle doti eccezionali, ti prego di farlo guardare. Poi perciò avvocato, lei scena sempre una nuova. Si chiama Maradona. Lui ha detto, questo nome che sembra una bestemmia, non mi stia scocciare. Dico, Boniperti, guarda che deve essere qualcuno. Ti sposta di Boniperti. Se fosse qualcuno lo saprei. Una bellissima intervista del grande Minoli in compagnia di Gianni Agnelli, l'avvocato. Qualcuno a volte si sbaglia nei giudizi sui calciatori. Beh, sicuramente se sbaglia Boniperti possono farlo un po' tutti. Ma ritorna alla mente la passione e l'amore per un calcio che forse non c'è più. Un calcio targato anni 80-90, il calcio dei sogni. Diamo il benvenuto ad un autore, ad un grande collega, un amico soprattutto. Diamo il benvenuto a Stefano Discreti che ci parlerà degli anni del re. Benvenuto Stefano! Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. È un piacere per me, come sempre. Stefano, allora, gli anni del re era la Juve di Michel Platini. Era la Juve che tu hai raccontato con diverse partecipazioni di numerosi colleghi nel tuo ultimo libro. La Juve del re è anche la Juve senza ombra di dubbio di Gianni Agnelli. Si può dire che al di là di Michel Platini, il grande numero 10 che ancora oggi potrebbe mancare a qualsiasi squadra e quindi anche la Juve è proprio quel Maradona deprezzato da Boniperti per un nome un po' così, come direbbe Paolo Conte? Ma diciamo che comunque sia il discorso è, credo che se fosse arrivato Maradona, probabilmente poi, se fosse stato preso all'epoca, quando l'aveva segnata Agnelli Maradona, non so se poi sarebbe arrivato anche Platini. Quindi comunque sia, facciamo che ognuno ha il suo mito, mi tengo volentieri il mito di Platini, pur riconoscendo la grandezza immensa di Maradona. Quando parliamo di Platini parliamo di un talento particolare, un talento dei tuoi anni, della tua giovinezza. Io, essendo anche tuo amico, so bene la tua ammirazione per Michel. La caratteristica di questo numero 10 di origine novarese qual era? Era il suo un calcio assolutamente fantasioso ma geometrico, un calcio costante, un calcio fatto di alto rendimento, di concretezza e di tanti gol. E forse è stato il numero 10 più concreto della storia, Maradona parte sempre. Diciamo che parliamo intanto di un'epoca che ha fatto sognare tutti gli italiani, in particolare gli juventini, ma parliamo del calcio più bello di sempre. Parliamo del campionato italiano più bello di sempre, perché proviamo a vedere un po' in quegli anni chi c'era in Italia di stranieri. La Juventus aveva Platini, il Napoli Maradona, la Roma Falcao, ma le squadre anche minori, tra virgolette minori, che comunque lottavano per il quinto, per il sesso, al settimo posto, annoveravano dei talenti pazzeschi. Basti pensare che l'Udinese aveva Zico, uno dei giocatori brasiliani più forti di tutti i tempi. Il Torino aveva Junior. La Fiorentina, Socrates. Immaginare Zico all'Udinese, io riporto sempre questi esempi, è come pensare se oggi uno dei grandissimi, uno tra Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Messi, giocasse non nella Juventus, nel Milan, nell'Inter, ma giocasse, che ne so, nella Sampdoria o nell'Udinese stesso. È credibile all'epoca di oggi una cosa del genere? Assolutamente no. In quegli anni, come disse anche Pelé, tutti i più forti volevano venire a giocare nel campionato italiano. In quegli anni il calcio italiano era il più forte di tutto. in assoluto, non erano uguali. Era il campionato più bello di tutti, un campionato appassionante, un campionato in cui c'era veramente rivalità tra tanti e tra questi la squadra che è emersa di più è stata ovviamente la Juventus di Platini, guidata da questo giocatore che un numero 10, un centrocampista, per tre anni consecutivi è stato capocannoniere della classifica dei cannonieri italiani. Ricordiamo anche i palloni d'oro in anellati. Vediamo una tua foto, Stefano, con Luciano Moggi. Luciano Moggi, tra l'altro, ha partecipato anche attivamente a dei nostri lavori, a dei nostri libri. Assolutamente. Ha scritto delle prefazioni di libri miei e tuoi. Un personaggio importante che ha scritto la storia della Juventus, anche una delle pagine più buie, anche se il calciopoli bis ha svelato un po' di magagne e ha praticamente riconosciuto non un'unica colpa nei riguardi di Luciano Moggi e della Juventus, ma di un sistema, insomma, marcio nel quale hanno pagato in pochi. Quella Juve, la Juventus di Platini, a tuo avviso era più forte di quella Juventus di Luciano Moggi che comunque è tornata sul tetto d'Europa vincendo con l'Ajax nella tua Roma una Coppa Campioni. Era più forte quella Juve, la Trapattoniana? La Juventus di Platini post-mondiale 1982 è la Juventus più forte di tutti i tempi, senza ombra di rubbio. La Juventus che annoverava Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli, Bettega, Paolo Rossi e come stranieri i più forti giocatori del mondiale del 1982 di rendimento, ovvero Michel Platini e Zibi Bonnet. Indubbiamente la squadra più forte di tutti i tempi. Questo va detto, comunque sia poi la Juventus di Lippi. La prima ha in parte avvicinato quella Juventus, ma se noi andiamo a pensare, soprattutto ai primi tre anni della Juventus di Platini, Platini in tre anni alla Juventus ha vinto Coppa delle Coppe, Supercoppa Europea, Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale. Tutto quello che c'era da vincere. Quella Juventus ha sbagliato solo una partita, la partita di Atene contro l'Amburgo. Per assurdo, un altro francese, ricordiamo un gol preso da Felix Magath, praticamente da centrocampo, con Zoff un po' colpevole, un po' no. Noi tra l'altro l'abbiamo anche ospitato. Ma per assurdo, un altro grandissimo numero dieci, francese, di scuola e nazionalità, perché ricordiamo che ha il doppio passaporto algerino, ovvero Zidane, ha vinto pochissimo a livello di club, fatto un paragone con Platini. Ha segnato anche molti meno gol, ed è forse stata una declinazione diversa del Platini stesso, ovvero di un calcio ancora più fantasioso, ma assolutamente meno concreto, e l'avvocato che abbiamo ammirato lo definì più divertente che utile. Assolutamente sì. Guarda, le parole che hai detto tu sono giustissime. Il grande peccato di Zidane è stato quello di fallire, diciamo, le due finali di Champions League, quella contro il Borussia Dortmund e quella contro il Real Madrid. Non essere decisivo in quelle partite, nel contesto proprio della sua permanenza da Juventus, è stato un giocatore fantastico, stupendo da ammirare, però poi era poco concreto, diciamo, sottoporta. Certo, serviva degli assi spazzeschi, però non era quel trascinatore che invece è stato Michel Padini, perché Michel Padini, oltre che un giocatore concreto, è stato un leader, un leader silenzioso, ma ironico, un leader pazzesco, e mi piace ricordare sempre un'immagine quando si parla di Michel Padini, un leader incredibile, di cui non ricordo nella storia del calcio qualcuno che lo possa avvicinare, il leader che segna nella partita più importante della storia della Juventus, probabilmente uno dei gol più belli della storia del calcio mondiale, e gli viene annullato per un fuori gioco di posizione inesistente. Tutti ci aspettiamo per l'importanza della gara, anche perché la Juventus in quel momento stava rischiando di perdere la Coppa Intercontinentale, ci aspettiamo una persona che sbraidi, che insulti... Si mise a sorridere, si mise a sorridere. Invece lui si siede, si sbraia per terra, quasi come una posa alla Napoleone, quindi una posa imperiale, si siede per terra, fa un applauso, si rialza, e comunque sia poi alla fine. E' lui stesso a decidere quella partita, proprio a dimostrare che, ok, mi annulli un gol pazzesco, ma comunque sia, io sono mi scelta di lì, io quella partita la vinco lo stesso. Stefano, noi stiamo vedendo tra l'altro le nostre immagini, le mie e le tue, mentre siamo alla giostra dei gol, insieme a Tony Sant'Agata, vestito come un ultra del Bari, siamo tutti più giovani e più belli, Stefano, in queste immagini. Ma, poteri del Photoshop. Esatto. Ma al di là delle battute, questa Juventus, che è una Juventus che entusiasma, anche mette, ha un giocatore che sarebbe piaciuto tantissimo all'avvocato, che è Paul Pogba. Sappiamo tutti che con un procuratore del genere, ovvero Rayola o Rayola, a seconda della visione, della versione geografica nella quale si pronuncia il nome di questo manager, che ricordiamo ha talenti enormi, soprattutto nel circuito olandese e cieco, ed era il procuratore di Pavel Nedved, pare che l'avventura di Pogba possa giungere al termine. C'è chi dice a fine anno, c'è chi dice sono gli ultimi 48 mesi di Pogba a Torino, c'è già un accordo con il Real, c'è chi dice va al Paris Saint Germain per Verratti. Ecco, è un giocatore che, secondo te, la Juventus e Andrea Agnelli dovrebbero mantenere a tutti i costi, oppure si deve puntare su Vidal e sperare in Verratti, in un eventuale scambio? Ma nel calcio moderno dire punto su un giocatore a tutti i costi non è più possibile. Quindi Stefano Discretti è già all'aeroporto di Parigi con il giocatore? No, questo non lo penso, però comunque sia, è finita l'epoca del berlusconismo, nel senso, c'è stata un'epoca in cui tu sapevi che determinati giocatori, ovvero che ne so, Maldini, Baresi, piuttosto che, tu sapevi che non avevano prezzo, quindi non hanno mai fatto parte di nessuna trattativa, perché tu sapevi che il Milan non l'avrebbe venduto a nessuno. Poi è iniziata però l'epoca dei Kakà, dei Scherchenko, e lei ha capito che nel calcio moderno, soprattutto il calcio italiano in questi ultimi anni che ha sempre meno soldi da investire... Contano i soldi e ricordiamo anche la pantomima Kakà, ricordiamo anche la pantomima Kakà. A proposito degli anni del re, ricordiamo alcuni nomi dei protagonisti che hanno accompagnato questa tua cavalcata letteraria nell'universo bianconero di quegli anni? Sì, spero che ricordandone qualcuno e poi non mi ripentico magari tanti altri nomi. Te li suggerisco io! Suggeriscimi tu, dai. Allora, ricordiamo... Allora, ne dico solo uno che vale tutti. Beccantini! Allora, ovviamente la prefazione è fantastica di quella che io ritengo la penna giornalistica più bella italiana degli ultimi trent'anni, cioè, ovvero, Roberto Beccantini. C'è una simpaticissima intervista introduttiva a Giovanni Veronesi, no? Talento estroso, regista veramente... Sui generis. Veramente talentuoso, diciamo, un personaggio fuori da qualsiasi schema e poi tante partecipazioni molto gravite, quella dell'amico carissimo Massimiliano Bruno, anche lui regista, di Giulio Base, anche lui regista. Poi c'è Paolo Belli, Claudio Chiappucci, Beppe Braida... Più ne ha, più ne metta. Poi c'è anche Alvise Cagnazzo, eh, io lo ricordo. Assolutamente, Alvise Cagnazzo. Perché dovete sapere che io e Stefano Discritti abbiamo un rapporto quasi fraterno, quindi siamo sempre in coppia. Alvise Cagnazzo è scontato questa parte di un progetto di... Ho condiviso, comunque, ci mancherebbe. Stefano, allora... Però ovviamente tu, essendo un ragazzo molto più giovane di me, ovviamente quella Juventus non l'hai vissuta sulla tua pelle. infatti era il che mi sono perso, il titolo del paragrafo. Grazie ancora a Stefano Discreti, Young del Re. Ciao, ciao. Ciao Stefano. Un saluto a tutti. Ciao. Torniamo subito e proseguiamo nel solco bianconero.